Il Consiglio dei Ministri rimanda al 12 settembre ogni decisione sulla riforma di geografia giudiziaria. Zaia chiama in causa il governo, se chiude Bassano dovrà assumersene la responsabilità. La crisi anche a Bassano non risparmia nemmeno i giovani, disoccupato, uno su tre. Partirà lunedì la rivoluzione degli angeli, 380 operatori sanitari in servizio negli ospedali veneti. Scivola dal tetto sbattendo la testa, grave ad asolo un impresario edile di 50 anni. Furto in un'abitazione di cittadella, assieme a monili in oro, spariscono anche quattro armi da fuoco. Grande festa giallorossa in piazza per la presentazione ufficiale del Bassano Virtus. Buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati a consueto appuntamento con informazioni di Bassano Tg. Dunque, come avete sentito dai titoli, per conoscere la sorte del Tribunale di Bassano bisognerà attendere ancora due settimane. Nella riunione moderna, infatti, l'esecutivo guidato da Matteo Renzi non ha affrontato la riforma di geografia giudiziaria. Slitta 15 al 12 settembre la sentenza del Governo che deciderà se il Palazzo dei Via Marinali potrà rinascere o meno come Tribunale della Pedemontana Veneta. Una sentenza che arriverà da appena 24 ore e dall'entrata in vigore della riforma che ridisegna la mappa dei tribunali italiani. Intanto nel pomeriggio il Presidente della Regione Luca Zai ha invitato il Governo ad assumersi la responsabilità di una scelta che avrebbe gravi conseguenze per la giustizia in Veneto. Tribunale di Bassano della Pedemontana Veneta, ultimo atto. In attesa della sentenza più importante per il nuovo Palazzo di Giustizia di Via Marinali, costato 12 milioni di euro e chiuso prima ancora di aprire in nome di un risparmio che invece avrebbe comportato al momento solo un peggioramento nell'amministrazione della giustizia, non solo in provincia di Vicenza ma anche di Padova e Treviso, il Governatore Zaia, che un anno fa iniziò a battersi contro una decisione reputata sbagliata e ingiusta, punta il dito su chi si dovrà assumere la responsabilità di una scelta con conseguenze fondamentali. Chi lo può salvare è chi lo ha chiuso, ricordiamolo fino in fondo, perché leggo dichiarazione addirittura che sembra quasi che chi lo può salvare c'è questo Governo, sembra quasi che ci arrivi come parte non in causa. L'attuale compagine governativa è la stessa compagine che ha chiuso questo Governo, per cui si dia una mossa e salvi questo Tribunale. La decisione spetta al Governo dunque a chi ha ricevuto in questi mesi tutti i dati dei disservizi, non solo dalla Regione ma anche dall'Ordine degli Avvocati e soprattutto dai sindaci, Bassano in primis ma anche e soprattutto Vicenza, Padova e Treviso, con motivazioni dettagliate. Il Tribunale di Bassano, come diciamo noi, è un Tribunale, effettivamente deve essere salvato, perché è un Tribunale efficiente, nuovo e che ci garantisce di chiudere una causa civile in due anni e mezzo. Cosa mai accaduta in Veneto, visto considerato che la tempo di attesa medio in Veneto è di sette anni. L'anno definita la rivoluzione degli angeli, è quella che da lunedì partirà negli ospedali veneti, dove entreranno in servizio 380 operatori sanitari per rendere più efficiente l'assistenza nei pronto soccorso. Soddisfatto il Presidente Zaia, in Veneto la sanità si conferma ancora una volta all'avanguardia. Siamo i primi ad introdurre questo nuovo principio nei pronto soccorso, avere delle persone che sono di neolaureati in medicina, dei nostri professionisti e anche il mondo del volontariato che si occuperanno dei pazienti direttamente in sala d'attesa. Questo accadrà dal primo di settembre e assieme a questo ovviamente anche introducendo nuovi principi rispetto ai tempi d'attesa. Ad esempio per un codice bianco non si debbono superare le 4 ore. Abbiamo già formato 380 professionisti della sanità, stiamo formando 60 neolaureati in medicina e abbiamo la formazione dei volontari, il che vorrà dire che saranno persone che vedendo anche il profilo dei corsi che stiamo facendo, che si occuperanno ovviamente dei rapporti personali con i pazienti presenti in sala, con i loro accompagnatori, cercheranno di seguire le singole posizioni e cercheranno di agevolare l'attesa e anche dando ovviamente costantemente risposte. L'obiettivo è quello di dare un servizio che sia un servizio degno di questo nome, di altissima qualità, 360 gradi, ovvero noi sappiamo che siamo bravissimi a curare ma spesso i pazienti si lamentano della loro attesa per ore, un'attesa magari che non è seguita da risposte, da informazioni. Allora con questa modalità invece abbiamo delle persone dedicate a dare risposte e a seguire le singole posizioni. Ed ora parliamo di economia. La crisi a Bassano colpisce anche e soprattutto i giovani. Oramai quasi un terzo è senza lavoro e chi può va all'estero. Purtroppo abbiamo superato il tema del 30% della disoccupazione giovanile, è un dato terribile. Se in periodo di crisi c'è chi perde il lavoro, c'è anche chi nel mercato del lavoro non riesce proprio a entrarci. Per certi versi i giovani rappresentano uno dei soggetti più deboli, tra coloro che alle difficoltà della nostra economia stanno pagando un prezzo altissimo, con un aspetto particolarmente grave. Chi può va via. Il problema è che è la fuga delle menti migliori. Questo sì, questo ci preoccupa molto perché persone che hanno collaborato con i nostri progetti, con la scuola esclusiva, sappiamo che sono all'estero. Da questo punto di vista ci preoccupa molto questo investimento fatto su alcune menti eccesse, come dire, che non potranno stare nel nostro territorio. C'è poi un altro aspetto che desta preoccupazione, quei giovani che non lavorano ed hanno smesso di cercare lavoro. Oltre ad un cambiamento culturale particolarmente significativo in un territorio con una forte vocazione imprenditoriale, le nuove generazioni non sognano più di fondare un'azienda ma mirano al posto fisso da dipendente. Teniamo conto che però è difficile fare impresa, è molto difficile, gli strumenti sono sicuramente minori rispetto a 15-20 anni fa, dove l'ambito creditizio ad esempio era molto più interessante, l'ambito artigianale era molto più tenuto in considerazione, è più difficile fare impresa. Io vengo dal mondo cooperativistico ad esempio, se penso a dieci anni fa è molto più difficile creare una cooperativa in questo momento. Non tutti gli indicatori sono negativi, tra chi va all'estero c'è anche chi ritorna, così come esistono storie di nuove aziende di successo fondate da giovani imprenditori, ma il quadro generale rimane preoccupante. E come sapete alle difficoltà che dovranno fronteggiare le aziende bassenese dedicato al nostro TG Linea Aperta di questa settimana. Crisi, embargo, maltempo, la ripresa si allontana e la politica, come sempre potete farci sapere la vostra opinione ai numeri che state vedendo in sovrimpressione. Atemi di paura, poco prima delle 16, oggi in via Cadorna Romano Dezzelino, dove per una mancata precedenza una Fiat Panda ha travolto lo scooter su cui viaggiavano 39 anni del posto. Il centauro è stato sbalzato ad una ventina di metri dal luogo dello scontro. Condotto al San Bassiano è stato sottoposto ad accertamenti per valutare la gravità delle ferite, ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi. È invece grave il caffoncello di Treviso, un impresario cinquantenne è scivolato da un tetto poco prima delle 9 di stamattina in via Browning ad Asolo. Stava eseguendo con alcuni operai della dita di lavori di manutenzione. Improvvisamente è scivolato, precipitando su un terrazzino e sbattendo violentemente la testa. Ha riportato un forte trauma cranico ed altre lesioni. Le sue condizioni sono molto gravi. Malore fatale per una ciclista sessantenne di strana colpito da un attacco cardiaco stamattina, mentre attorno alle 10 pedalava con un gruppo di amici verso il santuario della Madonna del Covo, la Crespano del Grappa. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 di Crespano, che hanno provato a rianimare l'uomo per una quarantina di minuti, ma inutilmente. E torniamo ora a Bassano. Dopo la discarica di pane fresco a San Lazzaro, un'altra segnalazione di pane buttato via a San Lazzaro. Ad accorgersene un telespettatore che ha chiamato Rete Veneta. Io ho visto del pane buttato per terra. Vedendo quel pane mi è venuto i berevidi perché io sono uscito dalla guerra e non c'era pane a quei tempi e vedendo queste robe ho detto non è giusto, non è giusto che la gente butti via il pane. Esattamente dieci giorni fa un telespettatore di San Lazzaro aveva segnalato al nostro telegiornale la presenza di una sorta di discarica di pane fresco sulle rive del Brenta. Uno schiaffo a tutti coloro che in questo periodo patiscono difficoltà economiche. Oggi una nuova segnalazione di spreco a Sant'Eusebio. Con tutti i poveri che ci sono, che c'è bisogno, per andare a mangiare i poveri e di buttarlo ci vorrebbe poco. Basterebbe un colpo di telefono ai frati di Magnan e il pane verrebbero a prenderlo. Forse la crisi di cui ci si lamenta oggi non è ancora sufficientemente grave da diffondere in tutti il valore del cibo. Per chi invece ha conosciuto anche gli anni drammatici che seguirono la seconda guerra mondiale, vedere del pane buttato fa riaffiorare alla mente ricordi incancellabili. Dopo il tempo di guerra allora non c'era pane, assolutamente. Si andava a prendere in paese la sboba, ti chiamavo sboba e si mangiava quella ed era buona lo stesso perché non c'era niente. Si intitola Cosa farò da grande? Accompagnare i ragazzi e le ragazze nella costruzione della propria identità. L'annuale seminario organizzato dal tavolo della preadolescenza di Bassano è destinato ad insegnanti, educatori e famiglie che per questo 2014 hanno in programma il prossimo giovedì 4 settembre dalle 9 alle 13 nell'aula magna della scuola Bellavitis. Italia Forlina, Igor Salomon e Mauro Casona i relatori della mattinata. Ed ora come ogni venerdì sentiamo che tempo ci attende nel weekend con il generale Giancarlo Gianni Celli? Dopo il tempo stabile di queste ultime ore dovremmo soffrire ancora di un assaggio d'estate, nonostante il passaggio di un sistema perturbato che dovrebbe interessare inizialmente solo le Alpi. Più in dettaglio prevediamo per Vicenza, per il Vicentino e per il Bassanese, per domani una nuvolosità quasi assente, quindi in prevalenza sereno, nel pomeriggio una moderata attività cumuliforme. Per domenica ancora un cielo pressoché sereno, poco nuvoloso, però dalla serata avremo un sensibile aumento della copertura del cielo per il passaggio, per l'arrivo di un sistema perturbato più organizzato. Quindi durante la notte, tra domenica e lunedì, potremo avere anche qualche precipitazione, soprattutto verso nord e quindi soprattutto sul Bassanese. Un brutto tempo però che passerà velocemente e già poi in parte lunedì, ma soprattutto i giorni a seguire dovremo avere ancora giorni estivi. Con questa situazione i venti sono deboli dai guadranti settentrionali e le temperature 20-21, un po' meno naturalmente sul Bassanese come valori minimi, valori massimi dai 24 ai 26 gradi. Per finire l'Alta Triadica è previsto quasi calmo, poco mosso. Una ricca pagina di cronaca in Alta Padovana, singolare furto a cittadella dove approfittando dall'assenza dei proprietari malviventi si sono introdotti in un appartamento di via San Rocco forzando una finestra. Una volta all'interno hanno scassinato la cassaforte sottraendo diversi monili e quattro pistole, tre semi-automatiche ed un revolver regolarmente detenute, indagano ora i carabinieri. Ed ora andiamo a San Pietro in Gu dove è finito male per un cittadino cinese un banale controllo dei carabinieri. All'Alta dei carabinieri che l'avevano fermato per un normale controllo ha esibito come richiesto i documenti. Peccato però che non fossero i suoi e così un cinese di 37 anni, Wu Kebang, residente nel Mantovano, è stato arrestato dai carabinieri di Carmignano di Brenta per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. I fatti risalgono questa mattina quando l'uomo è stato bloccato dagli uomini dell'arma a San Pietro in Gu mentre viaggiava su una Mercedes in compagnia di un connazionale. Alla richiesta di visionare i documenti l'uomo ha fornito ai militari una patente di guida e una carta d'identità risultate false e intestate ad un altro cittadino cinese. Immediate sono scattate le manette per il 37enne mentre i documenti sono stati posti sotto sequestro. Dopo le formalità di rito il cinese su ordine del magistrato di turno è stato rimesso in libertà ma ora dovrà rispondere di diversi capi d'accusa, guida con patente revocata, sostituzione di persona, falsa attestazione a pubblico ufficiale e ricettazione. Potrebbe essere scatturito durante una lite tra alcuni cittadini extracomunitari che occupavano abusivamente l'edificio, l'incendio che nella serata di ieri ha distrutto un'abitazione in via Cao del mondo a Santa Giustina in Colle. Fortunatamente le fiamme non hanno causato feriti sul posto, oltre ai vigili del fuoco volontari di Giustina in Colle, anche i colleghi di Padova e Cittadella, oltre ai carabinieri del comandante stabile. Siamo ora allo sport, sotto i riflettori ancora una volta il calcio con la presentazione ufficiale del Bassano Calcio. A fare sul serio si comincerà la prossima domenica ma intanto metabolizzata la sconfitta con la Lazio, il Bassano Virtus ieri sera ha incontrato l'abbraccio dei suoi tifosi nella presentazione al Caffè Danieli. Squadra, dirigenza e staff tecnico tutti presenti per incontrare i fedelissimi giallorossi e fare loro una promessa. Quello che ho detto e spero e mi auguro che veramente di poter portare sempre più tifosi allo stadio e di essere onorati di tifare Bassano perché farò di tutto ma anche ragazzi perché escano veramente fuori dal campo avendo dato il massimo. Questo è il nostro minimo ma piccolo obiettivo e dobbiamo cercare di portare avanti da qua al resto della stagione. Ad indossare la fascia di Capitano alla sua sesta stagione Virtus Sina sarà anche quest'anno Simone Iocolano. Siamo rimasti dall'anno scorso in molti quindi il gruppo diciamo che è quello di sempre, quello dell'anno scorso, quello che è arrivato ad avere risultati importanti. In più si è aggiunto qualche nuovo ragazzo che è subito entrato in sintonia con noi e niente si cerca di far bene anche quest'anno come lo è stato l'anno scorso. In casa Bassano dunque è tutto pronto per una nuova stagione da protagonisti, una stagione che vedrà ancora la presidenza Stefano Rosso. Conferma che solo alla fine dello scorso campionato sembrava impossibile. È stata una cavalcata trionfale che ci ha portato a cambiare idea. Ora ripartiamo con lo stesso entusiasmo, con dei soci nuovi che ci aiuteranno a fare ancora meglio, speriamo di quello che sia stato in grado di fare noi. Una squadra che abbiamo scattato in queste prime uscite di avere ancora la mentalità giusta. Ci sono tutte le premesse per far bene. Poi è chiaro che il campionato è lungo e difficile, ma affrontandolo con questa mentalità e determinazione penso che potremmo toglierci ancora qualche soddisfazione. E per il Bassano Calcio anche quest'anno niente darvi con il Vicenza. Quella bianco-rosso infatti è la 22esima squadra che disputerà il campionato di Serie B. Lo ha deciso oggi la FIGC. Per i virtussini la soddisfazione di aver vinto almeno la sfida diretta in Team Cup. Ed in chiusura di Telegiornale vi ricordo l'appuntamento con Focus in diretta questa sera su Rete Veneta a partire dalle 21.05. L'attualità, la politica e l'economia del Veneto come sempre al centro del talk show condotto dal nostro direttore Luigi Bacciagli. Come sempre potete partecipare anche voi da casa inviando i vostri sms durante la diretta. Ed ora come sempre vi lascio al ricordo dei caduti che riposano al Tempio Serio di Bassano. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci! Costa Luigi, Costa Pietro, Costanti Vincenzo, Costantini Domenico, Costantini Giovanni, Costantini Terzo, Costantino Donato, Costantino Giovanni, Costantino Riccardo, Costanzo Gaetano, Cottarelli Giuseppe, Cotin Vittorio, Cova Cagliazzo Severino Grazie a tutti! Grazie a tutti!